In pensione prima dei 70 anni con 20 anni di contributi avendo maturato un trattamento pari a 1,2 volte l'assegno sociale 448 euro invece dell'attuale 1,5 e il piano del governo per le pensioni future delle giovani generazioni costrette a fare i conti fra carriere discontinue e la prospettiva di ottenere l'assegno di vecchiaia più che 70 anni. L'iniziativa illustrata dal ministro del lavoro Poletti si applicherebbe ai giovani che rientrano interamente nel sistema contributivo ed hanno iniziato a versare i contributi dal gennaio del 1996 che così potrebbero contare su un assegno minimo fra i 650 e i 680 euro già che vedrebbero aumentata l'accumulabilità fra assegno sociale e pensione contributiva. L'Inps storcia un po' il naso, il presidente Boeri vi intravede un trasferimento di costi a carico delle generazioni future. I sindacati si sono detti sostanzialmente favorevoli anche se CGL, Cisle e Will restano comunque contrari al meccanismo automatico dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. Ovvero a quell'automatismo previsto dalla legge Fornero di aumentare in base all'aspettativa di vita di quattro mesi la possibilità per andare in pensione. Per noi è inaccettabile che a un mese intervento di quell'automatismo ancora non ci sia una risposta chiara da parte da parte del governo. Questo su come tutta la discussione sulla fase 2 della discussione appunto sulle pensioni ci vede molto attenti e se non ci saranno le risposte che le persone si attendono e che noi ci attendiamo avvieremo sicuramente una stagione di mobilitazione generale. Nettamente contraria a Forza Italia l'onorevole Sandra Savino legge nel progetto del governo una sorta di ulteriore sussidio cui di fatto non fa seguito alcuna politica occupazionale degna di questo nome. Questo è un ulteriore panicello caldo rispetto invece a quello che è il problema principale di questo paese cercare di detassare le imprese perché non ci saranno posti di lavoro finché le imprese non riprenderanno la produzione. Quindi ci sono elementi che fanno capire una volta di più che questo è un governo che ha solo manovra di carattere elettorale per cui non c'è un ragionamento sullo sviluppo industriale di questo paese e di conseguenza la disoccupazione è quella che è sotto gli occhi di tutti.